Salve a tutti, bentrovati e bentornati su Weza Channel. Oggi parliamo di un gioiello dell'animazione giapponese, FLCL Furikuri, OAV del 2000, ad opera della Gainax e della IG Productions, se non ricordo male. OAV sarebbe a dire in questo caso una miniserie di 6 episodi da 30 minuti l'uno, un'opera postmoderna, citazionista ai massimi livelli, ma soprattutto autocitazionista, nel senso che la Gainax prima di tutto prende in giro se stessa e attinge al proprio universo. L'universo naturalmente di riferimento è quello di Evangelion, una serie stranota, di strasuccesso, che a me piace pochissimo, ma che comunque è la fonte, una delle principali fonti, la principale fonte di questo FLCL, Furikuri, che non significa assolutamente nulla, e questo è una delle gag dell'anime. L'anime è un non-sense, un non-sense demenziale, ma non solo. In realtà la cosa molto bella e molto interessante di questa mini-opera sperimentale è la grande vastità di registri che utilizza per intrattenere e per emozionare, emozionare anche molto nei suoi momenti migliori. La storia è una parodia di Evangelion, quindi siamo sulla Terra, arrivano i cattivi da chissà dove, e il nostro eroe non vorrebbe essere un eroe, eccetera, eccetera. Il tema sessuale, il tema della scoperta del sesso e della fine della pubertà è metaforizzato in modo assolutamente divertente, ma anche molto molto efficace per tutta la durata dell'anime, ed è un po' uno dei fili conduttori, anche per questo è molto comico questo anime, nel senso che poi si diverte moltissimo a mettere il sesso e le sue allusioni in ogni singola cosa che vedremo rappresentata, come a voler sbertucciare in qualche modo il buon Evangelion o in qualche modo voler ammettere quella che poteva essere una delle letture principali, naturalmente. È molto bello comunque non solo come vengono cambiati i registri, all'interno di questo piccolo capolavoro c'è il comico, il grottesco, il malinconico e anche il fantascientifico, naturalmente, ma anche come vengono cambiati i registri visivi, nel senso che si utilizzano tantissimi stili di disegno diversi, intorno a quello principale, naturalmente, che fa da filo conduttore, e ci si diverte a rappresentare le varie emozioni dei personaggi con un'invenzione a fotogramma quasi, insomma, c'è moltissima inventiva, c'è moltissima libertà da parte del team che ci ha lavorato, molti dei quali avevano già lavorato ad Evangelion, per prendersi proprio il gusto di sperimentare, di provare a fare la cover di tanti altri anime, per così dire, e assieme ad Evangelion una delle fonti più distinguibili è quella di Lupin, naturalmente, lo si vede nei mezzi di trasporto e anche in alcune citazioni palesi, ma poi c'è tantissima cultura dell'animazione giapponese che viene riversata in questo anime, dove naturalmente ci sono robottoni che si deformano in modo pazzesco, che in qualche modo preconfigurano quelli che saranno i robottoni di Guren Lagann, altro capolavoro, naturalmente. FLCL Furikuri è davvero una perla, qualcosa che chi come me è cresciuto con la testa colonizzata e in qualche modo determinata dall'animazione giapponese non può assolutamente perdersi. Se avete seguito e amato l'animazione giapponese almeno in un periodo abbastanza consistente della vostra vita, questo è un anime che vi emozionerà e vi piacerà molto. Naturalmente è un anime molto non-sense, nel senso che il suo citazionismo si diverte a costruire invenzioni su invenzioni che sfociano a volte nel mero fuoco di artificio e quindi la durata dei sei episodi, sei episodi da mezz'ora, è ben breve, eppure è persino troppo. Io credo che quattro episodi sarebbero stati l'ideale. I primi due o tre episodi vi lasceranno assolutamente basiti e vi colpirà la maestria, la grandissima maestria degli autori nel gestire i registri, che non è una cosa banale in una storia che comunque non si prende sul serio e appunto sfocia spesso nel non-sense. Non è facile cambiare registro e coinvolgere lo spettatore nei cambi di registro se la sospensione dell'incredulità è così fievole. È un'opera davvero sottile da questo punto di vista. Secondo me c'è una grande sensibilità da parte di quelli che l'hanno realizzata. Però è chiaro che ci sono talmente tante invenzioni che a un certo punto finiscono e le ultime due puntate magari sono semplicemente la risoluzione della storia, l'anime diventa un po' più normale, un po' più sensato, la trama si inizia a distinguere sempre meglio e sono forse anche le meno interessanti, ma non ha importanza, si segue molto facilmente. Quello che conta, siccome parlavamo di plagio e di citazioni, è proprio il gusto citazionistico e come gli autori di quest'opera abbiano riversato in essa la propria cultura, le proprie passioni, le cose di cui si sono innamorati e le cose che amano prendere per i fondelli. È doppiato molto bene in italiano, quindi assolutamente la versione italiana ve la consiglio. Dicevamo dell'aspetto sessuale e quindi di questa componente, anche se così vogliamo dire, psichiatrica, che viene messa in scena, che può ricordare quello che succede in Evangelion così come i robottoni. Ma insomma, uno dei divertimenti di Furie Curie è proprio cercare l'allusione, che spesso è ancora più presente di quello che sembra. È un'opera estremamente adulta, naturalmente. Se cercate una trama che va da A verso B o da A verso Z, non è questo l'anime che vi darà soddisfazione. I dialoghi sono assurdi, i personaggi sfondano in continuazione la quarta parete per poi rientrare però molto abilmente. Gli stereotipi delle inquadrature, della narrazione in generale, sono usati in modo talmente intelligente da riuscire, come dicevo prima, a spostare la nostra emozione mentre stiamo guardando dal non credere a nulla di quello che stiamo vedendo a improvvisamente emozionarci per un passaggio. C'è da dire che è un anime anche molto musicale, nel senso che c'è tantissima musica, tantissima musica rock, brit rock, adesso non sono un esperto comunque, magari non è neanche il mio genere preferito, però è estremamente a tema con Fury Curie. È interessante come il volume della musica sia giostrato a volte quasi a coprire le voci dei protagonisti in modo intenzionale, a volte esplode, a volte quasi sparisce, insomma anche la gestione della musica che può sembrare qualche volta rintronante, in realtà secondo me è geniale e fa naturalmente rima con il personaggio, questa Aruko se non sbaglio, questo personaggio femminile armato di chitarra elettrica, la cui chitarra elettrica naturalmente è una super arma, eccetera eccetera. Abbiamo il nostro Takun, si chiama il protagonista, o è soltanto il suo nomignolo, comunque lo Shinji Ikari, della situazione, che continua ad avere protuberanze falliche che gli escono dalla testa. Insomma, c'è molto da divertirsi e moltissimo da vedere. È un anime che qualche volta conviene mettere in pausa per vedere tutto quello che c'è sullo schermo, alcune scene sicuramente le riavvolgerete per gustarvi le invenzioni e le trovate. Se volete fare un parallelo con la letteratura, un giovane che no, faceva con la letteratura una cosa molto simile a quella che fanno gli autori di Furikuri. Quindi questo è un anime breve, si reperisce facilmente. Se avete un po' di questa cultura nella vostra testa, come ce l'ho io e come ce l'hanno quasi tutti, quelli della mia generazione, è assolutamente imperdibile, proprio perché vi farà divertire con gli stereotipi che avete immagazzinato in anni di consumazioni giapponesi. Grazie.